Prolungata fino al 12 gennaio la mostra Caos Apparente, allestita nella Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato di Pordenone. Per rafforzare e ribadire legame con la sua città natale, Gianluigi Colin ha donato al comune di Pordenone l'opera Volti nel Tempo, una produzione artistica parietale composta da un'ottantina di tele di piccolo formato che riproducono diversi volti della città odierna. Gianluigi Colin, Volti del Tempo, come nasce questa opera che oggi viene donata al comune di Pordenone? Innanzitutto Pordenone è la mia città, quindi ho voluto rendere omaggio alla mia città attraverso il dono di un'opera, ma questo dono non è legato all'identità della città, ho voluto fare un lavoro che fosse il racconto della città attraverso un viaggio nel tempo, da una parte un omaggio a Il Pordenone, quindi Antonio De Sacchis, e dall'altra un omaggio ai cittadini di Pordenone. Io ho preso da Il Pordenone alcuni ritratti, alcuni volti, e li ho messi in rapporto con i volti dei cittadini di oggi. È un viaggio della mia memoria personale per dare un'idea di un racconto, anche emotivo, anche sentimentale, dentro il viaggio e l'identità della mia città. È un nostro concittadino, quindi siamo lieti che in coerenza con quello che è l'indirizzo di politica culturale dell'amministrazione comunale proponiamo questa mostra. E poi è un importante artista che si sta ritagliando una posizione estremamente rilevante nell'ambito dell'arte contemporanea nazionale e internazionale.